E' appena stato l'annuncio dell'entrata nel team Poker Stars, Massimiliano? Come ci si sente dopo questa andata straordinaria ad entrare nel team più prestigioso d'Europa e del mondo probabilmente? Sicuramente è una grande emozione, una grande opportunità insomma ad entrare in Poker Stars che è l'azienda leader mondiale del poker. Speriamo di far bene e di migliorare l'anno scorso perché è andato bene e poteva sicuramente andare meglio.